Domenica 21 agosto, San Pio X, è il 233esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 132 a termine. Il sole sorge le 6 e 18, tramonta le 20 e 8 minuti. La luna sorge a mezzanotte e 29, tramonta le 16 e 49. Un decreto del Senato Veneto invita il capitano da amar Vittore Cappello a portare a Venezia il capo di San Giorgio Martire, custodito dai greci nell'isola di Egina. Il Senato raccomanda che la sacra reliquia sia tenuta con la persuasione e le buone maniere, non con la violenza o con la truffa. La raccomandazione non è superflua perché i veneziani, ambiziosi di custodire nelle loro chiese corpi di santi e di martiri, non esitavano a ricorrere alla forza o alle più sottili astuzie pur di conseguire lo scopo. Le previsioni per domani? C'è un'imprevalenza sereno al più poco nuvoloso per modesti cumuli sulle zone montane nel pomeriggio. Su costa e pianura, l'imitrofa sarà presente della nuvolosità irregolare alternata a schiarite, più frequente nel pomeriggio sera, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie, massime in lieve calo su costa e pianura limitrofa, stazionari altrove.